Francesco Zampano promozioni in Serie A gioia e così sono bellissime da vivere sicuramente bellissimo sono senza parole comunque è stata un'annata fantastica abbiamo riniziato allo scorso anno la traversa di Lazzari era stato bellissimo così senti quando avete capito che era possibile la Serie A? noi siamo una squadra fantastica come ogni annata ci sono alte e bassi quest'anno è stato fondamentale rialzarci nei momenti difficili e siamo molto contenti senti il ricordo più bello che ti porti dietro in questo campionato magari la gioia, il momento più divertente nello spogliatoio che ricordo hai? Dici qualcosa, qualche inedito dai un inedito? Le ballate di Labbadula nello spogliatoio potrebbero essere è un bravo ballerino sì sì, è oltre a un bravo ballerino un grande giocatore e un grande attaccante spero che faccia una grande carriera senti l'ultima per chiudere così poi ti lascio i festeggiamenti si può dire che la promozione in Serie A è stata firmata da un gruppo unito unico che ha remato tutto dalla stessa parte? vabbè quello sicuramente siamo... siamo... eravamo un gruppo giovane che... come ogni gruppo ha le sue difficoltà siamo rialzati, siamo contentissimi adesso pensiamo solo a festeggiare con i nostri riposi Zampano l'anno prossimo? non lo so, voglio pensare a divertirmi adesso a festeggiare con i miei compagni grazie un saluto, ciao